Buonasera, ben trovati al campionato dei campioni, meno tre giorni al derby d'Italia tra Inter e Juventus, ci avviciniamo alla super sfida parlando e dando le ultime notizie in riferimento alle due squadre ma ci si avvicina anche con le polemiche perché secondo alcune indiscrezioni l'arbitro che dirigerà la partita sarà Rocchi, un arbitro che non piace all'Inter, ostile ai nerazzurri dopo andiamo anche a ricordare cosa disse il presidente Moratti dopo un Inter a Napoli di due anni fa ma non sarà questo, non sarà soltanto questo il tema della nostra serata parleremo anche delle ultime in vista di Torino-Milan e avremo un ospite davvero d'eccezione tra poco al telefono ma abbiamo anche tanti ospiti importanti qui con noi questa sera, buonasera, ben ritrovato Nicola Balzani Buonasera Stefano, forza Milan come sempre Ben ritrovato anche a mister Alessandro Scanziani, ciao mister Ciao, buonasera a tutti Una novità qui al campionato dei campioni, l'ex giocatore del Verona Luisito Campisi, ben ritrovato Buonasera Stefano, buonasera a tutti Ben ritrovato anche al nostro opinionista illustre Giancarlo Besana Buonasera a tutti, grazie Stefano per la considerazione Ed è tornato a trovarci, l'avete già vista nell'anteprima, Francesca Buriani che nel frattempo si è sposata immagino Visto il vestitino, ciao Francesca Ciao, benvenuti, io vi ricordo subito che potete telefonarci in diretta allo 0233213205 Allora Giancarlo Ripanisci il concetto che sei ancora single No perché qui altrimenti poi fioccano le proteste Le proposte, la butto subito sul gossip Perché togliere la speranza? Va bene, scusa stavi dicendo No, dobbiamo subito parlare di questa designazione che non piacerebbe all'Inter Non si parla di designazione ufficiale ma c'è questo rumor proveniente da Sporta e Mediaset e Giancarlo che vorrebbe Rocchi Adesso le proteste cominciano ancora sulle supposizioni Ancora prima che ci sia la designazione parte il tantan delle proteste E' meglio prevenire che curare Esatto, hai ragione Sandro, però non in questo caso A me non piace questo atteggiamento Ha già iniziato Mazzarri, se ti ricordi, dopo Inter-Catania In particolare in questo momento stiamo parlando dell'Inter Ma è purtroppo un verso diffuso e comune Lo fanno un po' tutti Quindi sarebbe anche ora di piantarla Che prima ancora di una designazione si comincia a contestarla Siamo davvero all'orrido qui Dopodiché Rocchi, se andiamo nello specifico Se non ricordo male io non seguo molto gli arbitragi Ma quello là mi è rimasto impresso però Inter-Napoli Ti ricordo la frase di Moratti, ce l'abbiamo in grafica E' quello del caccio di rigore Fuori area, bravissimo Il sito ufficiale dell'Inter che pubblicò la fotografia Lo 0-3 famoso Fu un arbitraggio obiettivamente Lui Mazzarri è l'allenatore del Napoli Eccolo qui Questo arbitro disse Moratti non è all'altezza del ruolo Ci dà fastidio, è talmente scarso Che non ha avuto il coraggio di allontanare Ranieri Che all'epoca era tecnico dell'Inter Durante la partita, ma nell'intervallo 2 novembre 2011 Sono passati due anni E da allora Rocchi non ha più arbitrato l'Inter Stavo dicendo proprio questo Che al di là delle geremie di che non mi piacciono Quel giorno Rocchi ne fece di cotte e di crude Dopodiché l'Inter, quell'Inter di Ranieri Ci mise molto del suo per prendere tre gole Perché il Napoli aveva giocato una grande gara Però gli errori arbitrali erano stati importanti Ma per l'intervallo forse è meglio che venga Rocchi Che vuol dire che sapendo di aver arbitrato male Una partita contro l'Inter Magari questa volta si fa perdonare Ma fa un altro favore a Mazzarri Hai capito? No perché fece il favore a Mazzarri Allora potrebbe dire L'allenatore Mazzarri c'è l'altra volta Il favorito Mazzarri Adesso tocca a me Secondo me Stefano il problema è che Indipendentemente che sia Rocchi Che sia per citare un altro Rizzoli Inter-Juve si porta da sempre Si porterà sempre dietro le scorie di Calciopoli Quindi alla vigilia di ogni Inter-Juve o Juve-Inter Avremo polemiche sugli arbitri Avremo un confronto a maggior ragione quest'anno Ancora più forte tra Conte e Mazzarri Sulle rispettive panchine Io la vedo così Sì sono d'accordo anch'io Luizito nella tua carriera ti capitava Di guardare le designazioni arbitrali Prima di Ma no ma Ma figura Ma figura In mio caso no Giancarlo lo sa meglio di me Ma come fa? In mio caso no Perché? Ma sì ma In C in Lega Pro Questa cosa qua non accadeva In B ho avuto la fortuna di giocare Non tantissimo Però Neanche in B sinceramente Ma non aveva tempo Non aveva tempo per guardare le designazioni arbitrali Non sai benissimo Avevo altro da fare Ma sì ma lui si allenava anche bene Scrupolosamente E questo anche che mi timorisce Hai ragione Anc Ma dopodichè aveva la sua vita La sua vita particolare Ricca Viva Ragazzo di relazioni pubbliche Hai presente? Cosa voglio dire con relazioni pubbliche O pubbliche relazioni Non aveva tempo di guardare le designazioni arbitrali A lui interessava Allenarsi mica troppo Giocare bene Giocare Lo facevano giocare Dopodichè Arbitrarsi chi voleva Sì sì ma Io svariamo un po' su tutti i fronti Dovevo essere impegnato Scanziani Torniamo sul pezzo Su questa designazione di Inter e Juve Secondo te Domani Quando uscirà la designazione arbitrale Comunque all'Inter Saranno molto attenti Su quale sarà l'arbitro Della partita di sabato sera Sì allora Prima cosa Io vorrei ricordare Una cosa Che quando vinse Lo scuolato il Verona Non perché lo vinse il Verona Perché è sicuramente meritato Però c'era il sorteggio totale 84-85 C'era il sorteggio totale Bagnoli Qualcosa Mi ha insegnato Io direi che non dobbiamo più stare a pensare A chi viene ad arbitrare una prima di calcio Perché se no siamo sempre legati Al fatto Vinco o perdo Perché è l'arbitro Cerchiamo di fare in modo che Ogni allenatore Ogni soggettà Ogni giocatore Si prenda le proprie responsabilità E poi se l'arbitro arbitra male Ci sarà chi di dovere Per giudicare il suo operato E tenerlo fermo Questa è la cultura italiana calcistica Cioè tu associ all'arbitro Quei determinati episodi Allora fai dell'arbitro Il colpevole E quindi no È meglio che non ci arbitri più Che sia Milan Che sia Inter Che sia Juve Ho capito Ma se stiamo a guardare Questa è la verità Se stiamo a guardare A tutte le designazioni Però vedi Anche le dichiarazioni di Moratti Lui faceva riferimento A chi Al fatto che Rochi fosse scarso Ha detto questo termine Se stiamo a guardare A tutte le designazioni O anche al dopo Partite Tutti gli errori fatti Dopo 20 partite Non giocheremo più Infatti Diciamo che siamo L'unica nazione Che nel 2003 C'è ancora Si aggrappa a queste cose Prima delle partite Vesso totalmente italico Perché a me non risulta Adesso non è che vogliamo Sempre l'erba di vicino E' sempre più verde Però in Premier League Per esempio In Bundesliga Non mi risulta Che ci siano sempre Ma che polemica Ma è l'eccezione Si è bravo Non ci sono questi Questi atteggiamenti Questa attenzione Questa pressione Sugli arbitri Io ne ricordo uno Ripeto Degli arbitri mi curo poco Di solito Guardo il calcio Non mi piace guardare Però per esempio Ho visto degli errori incredibili Fatti da web Dicono per tutti Uno dei migliori Uno dei migliori Uno che ha arbitrato Finale della Coppa del Mondo La polemica Finisce in un bicchier d'acqua Cioè Davvero Questa è un'altra cultura Quindi noi dobbiamo smetterla Addirittura Come dicevo prima Preventivamente Portarci avanti Per trovare quasi Degli alibi E un'eventuale sconfitta Piantiamola Noi siamo qua ancora A parlare di Bayron Moreno Te lo ricordo Sì Per giustificare Una sconfitta Con la Corea Mi pare Ne aveva fatte Di corte di crude Però i nostri giocatori Sì esatto Quella partita Dovami ce l'ha comunque Mesana ti faccio questa domanda Di proposito In questo blocco Ma Caciocco Ha un po' spazzato I sospetti Certi sospetti Sugli arbitri Certi Certi sospetti Insomma Che si erano sempre avuti Prima del 2006 Io non amo parlare di calcioppoli Nel senso che mi piacerebbe Che ci fosse una specie Quindi in questo blocco Ti lasciamo No Che ci fosse una specie No Che ci fosse una specie Di composizione Della vicenda Che ci fosse una specie Di intulto Non lo so Che è finissimo tutti Di parlarne Dopo avere ammesso Ciascuno Le proprie responsabilità Le proprie colpe Che ci fosse Cioè Un confronto Più civile E più E più sereno Abbiamo visto Anche situazioni Diciamo In politica Molto più Rilevanti E lì si è arrivati Comunque Si è pure Faticosamente Alla composizione Qui Per questo fatto Di politica sportiva Siamo ancora In alto mare Ne parliamo ancora oggi Ognuno rimane Sulle sue Posizioni E ne portiamo le scorie Va bene Dobbiamo andare in pubblicità Prima però Ricordiamo il numero Per chiamarci in diretta Restate con noi Perché abbiamo Un collegamento telefonico Molto importante Tra poco Francesca Chiamateci Allo 023321 3205 Pubblicità Un uomo entra in un bar Ma è il bar sbagliato Un caffè Grazie Beh io vado Non hai dimenticato niente Ehi denti Vuoi tenerli così? Meglio due Ogni volta che mangi o bevi Vivi Densilit Per denti sani Gira e rigira Gira e rigira in Calabria Ci vuole un attimo Per immergersi Nei colori E nella cultura Del Mediterraneo Questi bronzi di riace Mi fanno proprio Girare la testa Gira e rigira C'è sempre un buon motivo Per vivere la Calabria Interrompiamo i programmi Per darvi una buona notizia Alice Scusate Beh Volevamo darvi Una buona notizia Ma A quanto pare Più che buona È buonissimo Ma che buoni Provali anche tu My car My lion My man My house My job My style Pensare alla grande My style My bet Mybet.it Passione italiana Affidabilità tedesca Gira e rigira Gira e rigira in Calabria Ci vuole un attimo Per passare dalle coste Sabbiose e frastagliate Al suggestivo Entroterra Godersi le sue montagne Anche in inverno Farsi rapire dai sapori forti Immergersi nei colori E nella cultura Del Mediterraneo Questi bronzi di riace Mi fanno proprio Girare la testa Gira e rigira C'è sempre un buon motivo Per vivere la Calabria Volevamo darvi Una buona notizia Ma Più che buona È buonissimo Bancioni Mamma che buoni Provali anche tu Youbanking Ultimate Fantacalcio Scarica subito L'app gratuitamente Su Google Play E Apple Store E gestisci fino a 20 rose Di calciatori Della serie A italiana Componi la rosa Osserva le statistiche Dei calciatori Schierali poi Nella tua formazione preferita Non dimenticare La nuovissima sezione Le mie leghe Registrati E gioca con gli amici Come in un vero campionato Con Youbanking Ultimate Fantacalcio Realizzato Da Beb Software Gira e rigira In Calabria Ci vuole un attimo Per immergersi Nei colori E nella cultura Del Mediterraneo Questi bronzi di riace Mi fanno proprio Girare la testa Gira e rigira C'è sempre un buon motivo Per vivere la Calabria Interrompiamo i programmi Per darvi Una buona notizia Alice Scusate Beh Volevamo darvi E' una buona notizia Ma A quanto pare Più che buona E' buonissimo Mangioni Mangiaboni Provali anche tu Gira e rigira In Calabria Ci vuole un attimo Per passare Dalle coste Sabbiose E frastagliate Al suggestivo Entroterra Godersi Le sue montagne Anche in inverno Farsi rapire Dai sapori forti Immergersi Nei colori E nella cultura Del Mediterraneo Questi bronzi Di riace Mi fanno proprio Girare la testa Gira e rigira C'è sempre un buon motivo Per vivere la Calabria Rieccoci allora Avviciniamoci a Inter e Juventus Perché ci sono parecchi dubbi In particolare Per quanto riguarda L'attacco Delle due squadre Sia per quanto riguarda L'Inter Che per la Juventus Mister Alessandro Scanziani C'è un dubbio Per quanto riguarda Mazzarri Soprattutto per Il modulo Che potrebbe essere Un 3-4-1-2 O un 3-5-1-1 Come è stato Nelle prime partite Perché potrebbe giocare I cardi Addirittura dal Primo minuto Noi ci siamo affidati Alla vecchia formazione Quella che Ha fatto bene In queste prime uscite Con Alvarez Alle spalle di Palazzo Secondo te Sarà questa la formazione Che vedremo sabato sera In campo? Sì Presumo di sì Perché anche a Catania Ha giocato con questo modulo In questo momento Probabilmente è quello Che gli dà più sicurezza Perché Icardi Reduce un infortunio Non è ancora Al 100% Mentre Alvarez Sta facendo sicuramente bene Rispetto a quello Che conosciamo prima Questo gli dà Più sicurezza Una squadra Molto quadrata Che si sa difendere Molto bene Partire negli spazi Penso che La formazione sia questa A me sorprende Stefano L'utilizzo di Kuzmanovic E non di Kovacic Cioè io Se fossi Mazzari Contro la Juventus Questa è una probabile No 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 Però anche a Catania Però ha fatto il primo tempo Poi si è fatto male Perché probabilmente Lui Però secondo me Con la Juve È un giocatore È un giocatore Soprattutto una partita Come contro la Juventus Che dal punto di vista Tattico e tecnico Può comunque rovesciare Il fronte Bravo Al passo Al dribbling Più di Kuzmanovic Ovviamente La prima cosa Con la Juventus E non prenderle È l'aspetto atletico Ah ok Perché questi vanno Per cui prima di tutto Vuole coprire Così perché Kovacic Non dà sicurezza Di fare tutta la partita Perché lui dice Eventualmente L'ultima mezz'ora Quando i vittori Sono un pochettino Più bassi Come ha fatto finora Come ha fatto finora Alla faccia delle anime belle Dei qualunquisti Di quelli che è importante Fare un gol di più Degli altri Figurati Mazzari Primo non prenderle E con questa filosofia Ha messo a posto La difesa Zero gol subiti Zero gol subiti Finora E questo fatto Ha dato sicurezza Anche a tutti quanti Gli altri reparti Quindi partirà Quasi sicuramente Penso Con la stessa formazione Prudente Con una sola punta Alvarez alle spalle Poi strada facendo Magari inserirà Kovacic Che in questo momento Anche nella sua nazionale Sta giocando Sullo scampo di partita Perché non è pronto E quindi Farà sicuramente Le correzioni in corsa Anche in relazione Al risultato Che sarà maturato Credo che la Juve Avrà i suoi bravi Problemi Contro questa Inter Che rimane Un'inter operaia Però Consapevole Consapevole di esserlo Umile Chiusa Quindi Dopodiché Ha ragione Sandro Scanziani Tu vai contro Un centrocampo Che è Una vera Una coraggia È un muro Una diga E sul piano fisico Non c'è Non c'è neanche partita La Juve è troppo forte Dove può vincere Luisito la partita La Juventus Contro questa Inter Che abbiamo visto in grafica Cioè Conte dove Dove attaccherà Secondo te Ma io mi permetto di dire Dove non la può vincere Dove non la può vincere È una squadra È una squadra Che secondo me È nettamente Più in forma Più quadrata Ma più Più consapevole I propri mezzi Riduce da due scudetti consecutivi Autostima alle stelle Giocatori importantissimi Vince facile Ci stai dicendo Secondo te Vince facile no Perché comunque Nel calcio Di scontato Non posso mai dare nulla Avendo giocato a calcio Conosco bene Ogni partita è a sé Sulla carta Bisogna vedere un po' Che vogliano Di mettersi in gioco E che vogliano Di attaccare dal primo momento Non so se la Juve Partirà subito Con il discorso di dire Aspettiamo un attimo Vediamo come si mette Vince che ha subito il gol Non lo so Questo è un po' Dipenderà Conte L'Inter sicuramente Starà lì Compatto La Juventus Che scenderà in campo Sabato sera La probabile La molto probabile Formazione Anche perché Tutti danno per scontato Nicola Balzani L'impiego di Quagliarella Dal primo minuto Si era parlato Di un superamento Da parte di Giovinco Invece partirà 99 su 100 Quagliarella E questa è la bocciatura Del mercato attaccanti Al di là di Tevez Di Conte Perché Llorente Non viene nemmeno Preso in considerazione Lui secondo me Conte non ha gradito Lo ha detto Ed è la verità La cessione di Matri al Milan Perché se no Avrebbe giocato Matri Senza Vucinic L'ha detto Mi sembra che l'abbia anche ribadito No l'ha ribadito No l'ha anche ribadito Mi sembra No l'ha anche ribadito E credo che secondo me Lì la questione di Llorente Ad esempio Che non gioca È stato più una scelta societaria Che una richiesta di Conte Il giocatore Questa è l'impressione Che dà Infatti non lo fa giocare Perché non ne parla nemmeno Conte di Llorente Questa è una certezza Non è una supposizione Perché l'allenatore in Italia Dal punto di vista De la strategia di mercato Conta a zero Sì vabbè però Il dirigente andrà Dall'allenatore a chiedere Che attaccante vuoi Llorente può far comodo I tuoi schemi Può essere funzionale Il tuo gioco Ci sarà un confronto E lui ti dà le caratteristiche Dell'attaccante Ma vai Io l'ho sempre detto qui Se non mi sbaglio Lo scorso anno Da gennaio Quando l'hanno preso Ma siamo sicuri Che questo è il più bravo Di Guagliarello di Matri Che nel nostro campionato Faccia il doppio dei gol Di questi Però Sandro Mi rifiuto Mi rifiuto di pensare Che stante La complessità Dell'operazione E il costo Dell'operazione Mi rifiuto di pensare Che Conte Non abbia avallato La turista di Llorente Secondo te Conte In persona Non un suo collaboratore Ma Conte Quante volte ha visto Dal vivo Llorente? No All'anno scorso Però bisogna considerare All'anno scorso Ma è un acquisto mediatico Questo Però E' un colpo E non dimentichiamo Una cosa Se Stefano Llorente Sta pagato zero Io ho detto Però L'allenatore L'allenatore Conti Quante volte L'avrà visto Dal vivo Non ha giocato All'anno scorso Un anno che afferma Ecco Però a me Quello che mi sorprende Che Conte Ha accettato Un giocatore Che praticamente Viene da un anno Di inattività Questo mi sorprende Se uno come Conte Mi consenti Un pronostico Di mercato In vista di gennaio Via Llorente Torna Gabbiadini Te la metto già qua Te la metto già qua Invece mi consenti Un'osservazione Sulla grafica Viste le formazioni L'unica speranza Dell'Inter Ed è una speranza Paradossale È quella di attaccare La Juve Sulle fasce Perché Mi viene da ridere Ma l'Inter In questo momento È esiziale In questi suoi contropiedi È gioco di Mazzarri Giancarlo Naga L'Inter può attaccare L'Inter può attaccare Con Nagatomo E Jonathan Che erano i pulcini neri Carimeri E l'Inter può vincere In virtù della prestazione Di questi giocatori Perché di là Ci hanno Asamoah E Risteiner Può pensare Second te Scanzieri L'assenza di Barzagli Che a mio modo di vedere Nelle ultime due stagioni È stato il vero protagonista Della difesa Della Juventus Dovrebbe giocare Ogbonna Poi vedremo Come Conte Schiererà Questi tre difensori Magari potrebbe cambiare Qualcosina Nell'assetto Sicuramente sì Perché Ogbonna Che comunque Reputo un ottimo difensore Ma non so Quanto si è già entrato Nei meccanismi Di questa Juventus Perché probabilmente Se fosse stato Caceres Avrebbe giocato Caceres Probabilmente sì Perché perlomeno Era più abituato A certi movimenti E a certi modi Di muoversi Nella fase difensiva Secondo me L'Inter potrebbe Creare dei problemi Con Alvarez Che parte da dietro Che arriva Che è difficilmente Marcabile Gli attaccanti Che sono già lì Sono invece Molto più Marcabili E prevedibili Secondo me La Juve Può attaccare Con Licksteiner Che diventa devastante Quando si butta dentro Contro Nagatomo Contro Nagatomo Che da punto di vista Della fase difensiva Non è proprio Un fulmine di guerra E dietro Potrebbero andare A mettere in difficoltà Kubona Se non è ancora Entrato in questo Però nell'uno contro l'uno Kubona E' già un altro Che non è male Nicola chiudi Che poi dobbiamo andare In pubblicità E non dimentichiamo Di un giocatore Come Tevez La partita con la Lazio E Tevez Con i suoi movimenti E' stato devastante E ho capito Però un giocatore Che spazia Torna a prendere la palla Non so poi Magari l'Ugito Avendo giocato Se è d'accordo Favorisce gli inserimenti E poi soprattutto Ha delle giocate Imprevedibili Mi vai sul sicuro Parliamo di una qualità Di un altro pianeta E' orfano Lui di Tevez Siamo in due Abbiamo una foto Con Galliani Eravamo già pronti All'anno porto Con le sciarpe Ce l'hanno tolto Tu devi citare Tevez Io dico Che diventa protagonisti Come dicevo Il giapponese Nagatomo Io rischio di più Nel pronostico Va bene Dobbiamo andare in pubblicità Ricordiamo il numero Per chiamarci in diretta Francesca Mi raccomando Telefonate allo 023321 3205 A tra poco Gira e rigira In Calabria Ci vuole un attimo Per immergersi Nei colori E nella cultura Del Mediterraneo Questi bronzi Di riace Mi fanno proprio Girare la testa Gira e rigira C'è sempre un buon motivo Per vivere la Calabria Interrompiamo i programmi Per darvi una buona notizia Alice Scusate Beh Volevamo darvi una buona notizia Ma A quanto pare Più che buona È buonissimo Buonissimo Mangioni 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 Provali anche tu U-Banking U-Banking Ultimate Fanta Calcio Scarica subito L'app gratuitamente Su Google Play E Apple Store E gestisci fino a 20 rose Di calciatori Della serie A italiana Componi la rosa Osserva le statistiche Dei calciatori Schierali poi Nella tua formazione preferita Non dimenticare La nuovissima sezione Le mie leghe Registrati E gioca con gli amici Come in un vero campionato Con U-Banking Ultimate Fanta Calcio Realizzato Da Beb Software Gira e rigira In Calabria Ci vuole un attimo Per passare Dalle coste Sabbiose E frastagliate Al suggestivo Entroterra Godersi le sue montagne Anche in inverno Farsi rapire Dai sapori forti Immergersi Nei colori E nella cultura Del Mediterraneo Questi bronzi Di riace Mi fanno proprio Girare la testa Gira e rigira C'è sempre Un buon motivo Per vivere la Calabria Something's changed Volevamo darvi Una buona notizia Ma Più che buona È buonissima Mamma che buoni Provali anche tu My dog My cat My girl My family My world Mi piace pensare in grande Mi piace My bet Mybet.it Passione italiana Affidabilità tedesca Youbanking Ultimate Fantacalcio Scarica subito L'app gratuitamente Su Google Play E Apple Store E gestisci fino a 20 rose Di calciatori Della serie A italiana Componi la rosa Osserva le statistiche Dei calciatori Schierali poi Nella tua formazione preferita Non dimenticare La nuovissima sezione Le mie leghe Registrati E gioca con gli amici Come in un vero campionato Con Youbanking Ultimate Fantacalcio Realizzato Da Beb Software Gira e rigira In Calabria Ci vuole un attimo Per passare Dalle coste sabbiose E frastagliate Al suggestivo Entroterra Godersi le sue montagne Anche in inverno Farsi rapire Dai sapori forti Immergersi Nei colori E nella cultura Del Mediterraneo Questi bronzi Di riace Mi fanno proprio Girare la testa Gira e rigira C'è sempre un buon motivo Per vivere la Calabria Rieccoci in diretta Allora cerchiamo di avvicinarci A Inter e Juve Ieri abbiamo fatto Un'analisi globale Delle due squadre Con la migliore formazione Tra Inter e Juventus Oggi lo facciamo invece Analizzando i due centrocampisti Le due rivelazioni Di queste due squadre Ovvero Pogba e Kovacic Anche se sappiamo bene Che Kovacic È in dubbio Potrebbe anche partire Dalla panchina Come abbiamo detto In precedenza Allora Scanziani E Luisito Campisi Hanno scelto Luisito farà Pogba I voti a Pogba E mister Scanziani E mister Scanziani Kovacic Con la supervisione Cioè io cosa faccio niente Noi facciamo Tu ci assisti Tu assisti Se vuoi Voglio metterci becco Dopo Dopo No facciamo così Ci metto becco Vediamo se sei d'accordo Dai dai Luisito Partiamo con Pogba Bisogna di gioco Da uno a dieci Potete dare uno Non mi sbilanci Do sette e mezzo Sette e mezzo Non so se i mezzi voti Sono consentiti Arrotondiamo a sette Perché quella chiave Ancora devo inquadrarlo bene Arrotondi un cordo Gli hai rubato mezzo punto Vedi già in polemica Passo la polemica Passo la polemica No è partito a sette e mezzo Ho detto rotondo Abbiamo ritrovato un Bezana Particolarmente polemico Nel corso di questa edizione Registrate queste puntate Perché non si sa mai Allora Scanziani Poi il voto a Kovacic Che invece Insomma Secondo me È più bravo Da punto di vista La visione di gioco Io gli darei otto Considerando anche La giovane età Mi sembra che abbia Anche la personalità Oltre che il piede E la visione Sono preoccupato Sono d'accordo con Scanziani Una volta diceva Si sentiva Dissento Aveva registrato lui Dissento No dissenti Adesso È una prima volta Che eravamo insieme Adesso hai capito Che io c'ho ragione Me la dai No no Non sono così zerbinato No no Sono d'accordo Con l'otto Sette e otto Poi secondo parametro Di giudizio Passaggi Pogba Luizito Passaggi Otto Otto Ne sbaglia pochi Ne sbaglia poco D'accordo Balzani D'accordo Mister Scanziani Kovacic Direi che anche lui Sicuramente uno Dei suoi quali di battaglia Il passaggio Probabilmente Io gli darei qualche cosina in più Perché da un punto di vista Dell'ultimo passaggio Del passaggio che ti mette Illumina In posizione per poter fare il gol Mi sembra che sia superiore Pogba Sì è più tre quartista Ecco E' più diciamo una mezza punta Per cui darei nove Nove Pogba Sì anche se in quella posizione Anche se in quella posizione L'ho visto raramente Magari può giocare in quella posizione Ma con le caratteristiche Più di Pirlo Che non di De Jong Per fare due esempi Deve studiare da Pirlo Deve studiare Per cui gli do sei Anche perché dal punto di vista Atletico Nel gioco aereo Lascia qualcosa Non è la sua caratteristica Sicuramente Ma perché non prendono Scanziani Sulla panchina seria Cioè Adesso sta allenando Le ragazze Bella porfa È un bel lavoro Io voglio vedere Io voglio vedere Scanziani Perché hai balzato la porfa No ma hai sentito Non si vuole far sentire No ma hai sentito La sintesi Su scuola Perfetta No ma adesso Non è che stia Suonando il violino Ma mi sembra Sono d'accordo con Scanziani Portiamo bene I nostri allenatori Non a tutti Non a tutti Prima il mister diceva Che cercava un secondo No? Che so che sta allenando Bravo Però cercava Un bravo ragazzo Un bravo ragazzo Guarda qui ne hai tre Di bravi ragazzi Perché Bisanna ormai Dietro la lavagna Giancarlo Bisanna vuole un ruolo Da prima guida Per questioni anagrafiche Io non potrei mai Fare il secondo Scanziani Io posso fare il casting Va bene No vi devo interrompere Tra poco riprenderemo I nostri calcoli Perché finalmente Abbiamo avuto qualche problemino Col telefono No ce l'abbiamo ancora Finiamo dopo Il lavoro Col telefono No no lo riprendiamo Chiediamo al nostro Carlo Tagliagabbi In coordinamento Di ripristinarci La telefonata Siamo un po' sfortunati Allora andiamo avanti Con Luisito Perché stiamo parlando di Filtro 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 davanti alla difesa Pogba È il suo pane Secondo me Il tuo pane Il pane Il pane di Pogba Non il mio 108 Tu senti male Io gli do un 9 9 9 Siete d'accordo Besana Filtro Io abbassavo Potendo dare i mezzi Avrei dato Anche il passaggio Sette e mezzo Filtro per Pogba Abbiamo deciso Io gli avrei dato 8 Sì sì hai ragione Gli avrei dato 8 Perché non è ancora un Desai Ecco Beh però è sulla buona strada No Per forza Per pensione futura Allora Io dico per fortuna Devo interrompere ancora Dovremmo avere il telefono L'ex DG della Juventus Luciano Moggi Lina con noi Moggi Buonasera Buonasera Ce l'abbiamo fatto Buonasera direttore Buonasera 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 Luciano Moggi Mancano tre giorni A Inter Juventus Inter e Juve In testa alla classifica Entrambe imbattute Hanno vinto Entrambe le prime due giornate Di campionato Juventus ancora favorita Perché ha vinto Gli ultimi due scudetti O vede un Inter di Mazzari Che può mettere in difficoltà L'Inter La Juventus Pardon Beh È una partita Sicuramente difficile L'Inter Con il nuovo allenatore Mazzari Che si conosce abbastanza bene Ha acquistato sicuramente In agonismo Quindi è una squadra Che non si dà per vinta Al contrario di quello Che facevamo negli anni passati Però ha dei difetti Praticamente Sicuramente Molti più difetti Della Juventus Ad esempio In difesa È meno forte Della Juventus Davanti È meno forte Della Juventus Però supplice a tutte queste cose Probabilmente Con la carica Agonistica Che si dà Un nuovo allenatore Ritengo Intanto Escluderei a priori Nonostante Che praticamente La squadra Non abbia impegni Di coppia E varie Durante il campionato Che possa essere Una squadra Che possa ambire A posti importanti Della classifica Perché la Juventus La ritengo Decisamente superiore Nei confronti Dell'Inter Del Napoli E Di altre squadre Tipo Fiorentina E la difesa Sicuramente Farà anche Questo campionato La differenza Per quanto riguarda La partita con l'Inter Ripeto È una partita Difficilissima Sono due squadre Che hanno vinto Praticamente Entrambe E comandano La classifica A punteggia piena Per cui C'è da aspettarci Qualsiasi risultato In questo momento A lunga Sicuramente La Juventus Potrebbe prevalere Le domande in studio Nicola Balzani Buonasera direttore Buonasera Volevo domandarle Secondo lei Pogba Anzi Gliela ha imposto così Pogba Che tipo di giocatore Le ricorda Della sua Juventus E la seconda Se può essere Se può diventare In proiezione Lo è già un po' Ma è uno dei centrocampisti Più forti In assoluto Beh Diciamo che è già Uno dei centrocampisti Forti Può ricordare Anche per la struttura fisica Di Erai Di Erai Che praticamente Era un mediano Importante Da non confondere Con il ruolo Però Di tirlo Perché sarebbe Un errore Il giocatore Il giocatore È un centrocampista Un mediano E in questo ruolo Sono sicuramente Fatti rispettare Perché con i piedi Fa tutto quello Che in pratica Fa un giocatore Dotato Tenicamente E' una E' un giocatore Quindi è praticamente Noi Non è un campionissimo Ma è già uno Che si vede Che è la sorda del campione Certo La Juventus ha vinto due cantenati e si accinge ad effettuare il terzo praticamente con il ruolo di favorita. Quindi penso che il cammino stesso indica le capacità e il buon lavoro svolto da Marotta. Marotta aggiunge le paratisi, ovviamente con la supervisione di Antonio Conte. Direttore, noi dobbiamo andare qualche istante in pubblicità. Le chiediamo di rimanere in linea con noi perché anche qui in studio ci sono diverse domande. Poi da casa tanti di suoi ex tifosi stanno facendo molte domande. Può attendere qualche secondo? Prego, prego. Perfetto, ci sentiamo tra poco. Un uomo entra in un bar, ma è il bar sbagliato. Un caffè? Grazie. Beh, io vado. Non hai dimenticato niente? Eh? Nei denti. Puoi tenerli così? Meglio due. Ogni volta che mangi o bevi, vivi Densilit per denti sani. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, beh, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare, più che buona, è buonissimo. Provali anche tu. My dog. My cat. My girl. My family. My world. Mi piace pensare in grande. My style. My bet. Mybet.it Passione italiana. Affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Anconi! Mamma che buoni! Provali anche tu. Ubanking Ultimate Fanta Calcio Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store e gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana. Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori, schierali poi nella tua formazione preferita. Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe, registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato con Ubanking Ultimate Fantacalcio realizzato da Beb Software. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice, scusate, beh, volevamo darvi una buona notizia ma a quanto pare più che buona, è buonissima. Marconi, marconi che buoni! Provali anche tu. Gire e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gire e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Rieccoci allora, ringrazio lo staff tecnico della regia che ha ripristinato a tempo di record il nostro collegamento con Luciano Moggi. Una domanda da parte di Luis Campisi, ex giocatore del Verona. Vai Luis. Buonasera direttore. Buonasera Luis. Buonasera, domanda rivolta al parco attaccanti. Avrebbe lei mai preso un giocatore come Llorente che veniva da un anno in attività e come lo considera? Prima cosa. Seconda cosa, secondo lei se Tevez finalmente ha trovato una squadra dove potrà esprimersi al meglio e non alternare le presenze e le prestazioni durante il corso dell'annata come ha fatto invece in passato più volte? Beh, è una domanda complessa. Prima di tutto, prima di tutto Llorente. Llorente potrebbe essere stato preso, prima di tutto perché era parametro zero, ma a prescindere dal parametro zero è sempre un ingorgo praticamente di contratti che coinvolgono giocatori che possano interessare e non. Quindi io penso che la Juventus, se non ha fatto i spesi conti, abbia preso Llorente per dare un'alternativa ad un attacco. Questo attacco, che è praticamente fatto in questo momento da trequartisti, perché Fusini se si può considerare un trequartista al massimo alla seconda punta, Tevez e Idem, può aver bisogno in qualsiasi momento di un attaccante vero o uno di stanza. Però per far questo, ovviamente, se ricordate bene, la Juventus stava cercando degli esterni per dare possibilità alla testa di Llorente, che in quel gioco è sicuramente forte, di poter realizzare dei gol. Non li ha trovati, Llorente praticamente è al palo, anche perché Tevez è il giocatore ideale per giocare nella squadra di Conte, che Conte vuole una squadra che gioca da squadra e non una squadra che ha un giocatore che fa riferimento per riapprezzare, quindi Tevez è l'ideale. Non è certamente un campionissimo Tevez, però è anche sbagliato dire che non è un buon giocatore. Io sono convinto che farà la sua parte, ma la Juventus in quel settore, io penso che non sia migliorata, ma sia giocatore da quello che era valido l'anno scorso, tenendo presente che io purtroppo, dico io, non avrei ceduto Matrix, che era uno dei pochi anni. Immaginavo, mi sa che non è l'unico. E la verità, e poi soprattutto non l'avrei dato a Milano. Senta, Moji, lei ha preso tanti bravi allenatori, ma Alessandro Scanziani non l'ha mai preso in considerazione. Ce lo teniamo stretti noi perché ha una competenza calcistica davvero eccezionale. Sapete che a me hanno rimproverato questo discorso di Matri, qualche tifoso giuventino, dicendo che lei ha dato inzaghi, sì, io ho dato inzaghi a Mila, ma ho dato inzaghi a Mila che praticamente quando stava Ancellotti alla Juventus, che poi è andato a Mila, non faceva giocare mai. O lo faceva giocare, praticamente, nei ritardi delle partite. Poi ho dato inzaghi, se mi permettono, perché ho preso che... Certo, dire... Scanziani! Sì, io sono d'accordo su quello che hai detto all'inizio, che la Juve in Italia è nettamente la più forte. Mentre a livello europeo, cosa manca ancora per essere competitiva con Barcellona, Real Madrid, Bayern e le inglesi? No, manca la qualità. No, no, su questo... Allora, se parliamo di campionato italiano, praticamente possiamo essere... Ma manca la qualità dove? Ma... Davanti? Ma praticamente anche davanti, se lo vediamo. Anche davanti, perché qui i giocatori di qualità eccezza possono essere considerati Buffon, può essere considerato Chiellini come difensore, perché Chiellini non ha il colpo dell'architetto, ha il colpo del muratore, ma ha il colpo che serve al difensore, ovviamente, quindi è un punto di forza della Juventus. Però, dall'altra parte, scusami, darle e dirlo per una scelta, per un certo verso, fino a quando rende, fino a quando ha fiato, può essere considerata sicuramente una squadra che è al di sotto sia del Real Madrid, sia del Bayern Monaco, sia del Barcellona. Su questo pezzo non c'è dubbio. Farà una buona Coppa dei Campioni sicuramente, come fece l'anno passato, ma no, da aspettarsi che possa vincere la Coppa dei Campioni e da scudere. Direttore, ci sono arrivati 50 messaggi nel giro di pochi istanti, sul nostro profilo Twitter, magari un regista... Chissà le parolazze che mi hanno detto. No, no, non ta, eccole qua, grazie al nostro regista. Francesca, leggine ancora una per il direttore, le chiedo di essere un pochino più sintetico, vai Francesca. Sì, i nostri amici di Passione Napoli le chiedono, come vedrebbe lei la moviola in campo e la tecnologia di supporto agli arbitri? Sono l'arbitro, non la vedo per niente, anche perché non è il basket, il gioco per calcio, e fermare il gioco praticamente non serve a niente. Non serve a niente perché se guardate la moviola, nelle televisioni praticamente avete l'idea di quello che può succedere. si vede 20 volte la stessa azione e magari non si capisce se era fuori gioco, se non era fuori gioco, se era rigore e se non era rigore. Quindi è da escludere la moviola in campo che poi tra l'altro toglierebbe il lavoro a tante persone che lavorano in televisione. Anche a noi. Giancarlo Besana, dai, veloce. Direttore, intanto per un attimo ho creduto che ci rivelasse qualcosa di clamoroso sul passato calzistico di Alessandro Scanziani, che ho tremato. Dopodiché vado un po' sul personale. Cosa le manca del calcio di oggi? Ma io non sento niente. Cosa le manca del calcio di oggi? Ammesso che lei abbia rimpianti e recriminazioni. No, cosa mi manca del calcio di oggi? Niente. Anche perché adesso faccio l'opinionista, quindi scrivo sul libro e lavoro in televisione, per cui il problema praticamente lo seguo ugualmente e forse lo vedo meglio da fuori. Se leggete il mio articolo che uscirà sul libro venerdì mattina, capirete anche il perché di questo. Va bene. Va bene, direttore, gliela faccio io. Allora l'ultima domanda. Ma lei in passato, dopo l'esperienza alla Juventus, è stato più vicino all'Inter o al Milan? Sono stato più vicino all'Inter e poi dopo sono stato vicino anche al Milan. Forse quella vicinanza lì, con la mia andata a Palazzo Caglioli e a Berlusconi, ha fatto scoppiare praticamente il casotto di Calciopoli, da parte di chi teneva di perdere il posto. Sono ancora tanti i dirigenti che la chiamano durante il periodo del calciomercato per avere consigli prima di chiudere una trattativa o anche prima di iniziare? No, 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 ma guardi, a me mi chiamano in tanti, ma non per chiedere consigli. Il calcio non ha bisogno, praticamente i presidenti di attuario, non hanno bisogno di consigli miei, sono bravi da soli. Però ho mantenuto l'amicizia con tantissimi presidenti di calcio di serie A e di serie B e non solo italiani, ovviamente. Direttore, se dico Calciopoli, se pronuncio questa parola, le viene ancora l'orticaria? No, non mi viene l'orticaria, mi veniva prima, adesso non mi viene prima. Infatti ho detto ancora. Perché il processo sportivo ha stabilito che il campionato era regolare e che praticamente c'era un sistema, il sistema mochi, sistema strutturale che poi è stato denominato sistema mochi. C'era o non c'era? Questo sistema ha avuto come particolarità il sequenzo di paparezza. Perché non hanno provato altro per condannare sportivamente che il sequenzo di paparezza. Voi avete visto che la procura di Reggio Calabria ha archiviato il fatto come con la tessitura non c'è sempre che la spiega tutta la cosa. Io su quell'argomento lì mi ero incavolato perché un arbitro ha avuto un comportamento indecoroso e guarda caso ora lo si trova sulle televisioni di Mediaset. E' un assistente Copelli che praticamente dopo una partita a Milan-Brescia quando è stato criticato da Foschi, quando è stato criticato da Foschi come comportamento scorretto si è rivolto a Milan-Brescia e a Milan-Brescia e a Milan-Brescia e a Milan-Brescia e in pratica e a Milan-Brescia ha detto non preoccuparti, parlerò io con il capo per dirgli che siete nostri. Questi erano i due che praticamente hanno fatto perdere la Juventus in quella partita famosa e Reggio Calabria, quindi avevo tutte le ragioni del mondo io, però non sapevo di queste cose che ho appreso dalle intercettazioni e adesso mi rendo conto che quello che pensavo era una cosa giusta. Non è così, se centrati in un argomento minato, non è mai esistito il sistema Mochi ma è esistito un sistema che ha dato contro la Juventus che ha dato contro la Juventus per favorire un'altra squadra che era diretta antagonista per la Juventus e addirittura anche per verificare le retrocessioni. Questo sistema praticamente non era il sistema Mochi, era un altro e ci sono le prove adesso, ci sono le prove perché in pratica sono state trovate le intercettazioni che verranno portate in tribunale. Quindi direi lasciate stare il sistema Mochi, abolitelo, trovate un altro sistema, quello che non favoriva la violenza ma era contro, volete che vi faccia l'esempio tipico? Purtroppo non abbiamo i tempi direttore Allora lasciamo stare Le chiedo solo un'ultima battuta in chiusura, anzi un suo pronostico Chi sarà il successore di Prandelli sulla panchina della Nazionale? Bella domanda Ma io addirittura questo non ve lo so dire, potrei anche pensare che Prandelli ha fatto come un mio amico Che cade da cavallo, tanto volevo scendere, disse, quando fu in terra Io credo che Prandelli aspetti l'esito dei mondiali, con l'esito dei mondiali dovrà decidere se restare o meno Se i mondiali vanno male deciderà la federazione, se i mondiali andranno bene lui deciderà anche di restare Va bene, va bene Grazie a Luciano Mochi, la sentiremo ancora nelle prossime puntate Grazie direttore, andiamo in pubblicità A tra poco Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti Immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia Alice, scusate, beh, volevamo darvi una buona notizia ma a quanto pare, più che buona, è buonissima Manconi, manca che buoni! Provali anche tu You Banking Ultimate Fanta Calcio Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store E gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori Schierali poi nella tua formazione preferita Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe Registrati e gioca con gli amici come in un vero campionato Con You Banking Ultimate Fanta Calcio Realizzato da Beb Software Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria Volevamo darvi una buona notizia ma più che buona è buonissimo Manconi! Mamma che buoni! Provali anche tu My car My lion My man My house My job My style Pensare alla grande My style My bet Mybet.it Passione italiana Affidabilità tedesca You Banking Ultimate Fanta Calcio Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store E gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana Componi la rosa Osserva le statistiche dei calciatori Schierali poi nella tua formazione preferita Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe Registrati e gioca con gli amici Come in un vero campionato Con You Banking Ultimate Fanta Calcio Realizzato da Beb Software Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo Per passare dalle coste sabbiose e frastagliate Al suggestivo entroterra Godersi le sue montagne anche in inverno Farsi rapire dai sapori forti Immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria Volevamo darvi una buona notizia ma più che buona È buonissima È buonissimo Provali anche tu Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo Per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria Rieccoci ancora in diretta Ci siamo interrotti insomma durante il collegamento con Luciano Moggi Tra l'altro a breve su calcissimo.com Ritroverete tutto il virgolettato di Luciano Moggi Domani ci sarà proprio l'estratto di questa telefonata per andarla a rivedere Adesso dobbiamo concludere con Cantisi Voti e con Scanziani voti a Pugba e Kova Però cerchiamo di correre perché dobbiamo parlare anche di Milano Allora tiro Luisito L'eccellenza la si può dare solo a Maradona Però se non gli dessi il massimo sarei pochi Mi dà un bel dieci destro e sinistro fuori aria Ha fatto del tiro da fuori Diciamo una delle sue arme principali della stagione scorsa E quindi per me uno di calcio in maniera perfetta Con gol decisivi Kova, Cic, Scanziani Io ho il massimo otto Proprio perché voglio bene Più per la potenza, per la precisione Per la qualità della conclusione, del tiro E ci metto anche il passaggio però c'è già prima Facciamo 9 a 6 dai Io do 6 a Kova Ma tu sei troppo interista No, ho fatto 6 Ah 6 Il rapporto è quello no? Sì, ha tolto 1 Per me l'unico 10 che puoi dare a livello balistico È a Balotelli Al destro di Balotelli Che è in assoluto superiore a tutti A Cristiano Ronaldo È paragonabile a sinistra CR7 non esageriamo Ci tocca CR7 No, per precisione e potenza Nessuno come Balotelli Dico io dopo il tradimento Le potenzialità di crescita Kovaci, vai vedere Stefano Il curriculum di Kovaci Ha fatto pochissimi gol Non è un grande tiro Kovaci Quello è vero Chiudiamo dai Chiudiamo Giancarlo Anche perché dobbiamo parlare di Luiz Dai vai 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 Pogba potenzialità 10 Può aiutare c'è una pista più forte in circolazione Come dice il suo agente minorario La Scanziani Io sempre 8 Perché No, voglio dire Non lo aiutiamo un po' con i voti Chiudiamo quindi Sì, con un Pogba 44 Kovaci 39 Più o meno È riassunto giusto Insomma In questo momento c'è una differenza Giusto Così Sì, Luizito Chiudi Secondo me Il direttore Luciano Moggi ha ragione Pogba mi ricorda tantissimo Per quanto però Dinamismo E propensione offensiva A un certo Campisi Non so se te lo ricordi Sì È un'importante Ti si chiama Luizito Perché il suo Pogba ti fava per l'Inter E per Suarez Questa è una bugia Che ho inventato io No, devo dire la verità Quando Campisi arrivò a Monza Mi dicevano appunto Che era grandissimo giocatore Ha fatto anche delle buone partite Beh ragazzo Avevo visto su YouTube Un gol che fece Contro il Padova Purtroppo quei gol lì Non l'ho mai visto Posso dire una cosa È piaciuto sempre di più Gola Monza 0 Gola Monza 0 Stefano è piaciuto sempre di più Alle tifose Che tifose Che non le tifose Stefano ma andiamo a parare sempre Lì Eh no C'è Carlo incredibile No bisogna un chiodo fisso C'è Carlo ma tu l'hai mai promosso O bocciato No 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 Io stravedevo Grande combattente A direi battute Davvero un grande combattente Per me Vabbè la solita storia Avrebbe meritato Una carriera più brillante Di quelle che comunque ha fatto Grazie Tu cosa stai facendo Bacio in diretta Ci mancava È la verità È la verità Cosa stai facendo adesso Luizio? Adesso ho intrapreso una carriera Diciamo da imprenditore Sto gestendo dei negozi Lavoro nel cambio merci E un'attività Carriera calcistica finita? Per il momento Io non dico Io dico mai dire mai C'è del? 70? Eh 70 No No 76 87 87 Ma allora scusate È un delitto Che non giochi più a calcio Ma le regole in Lega Pro Sappiamo benissimo Che penalizza La Lega Pro ha penalizzato L'abbiamo stoppato Alla storia dell'età media Lo sai benissimo Campisi è sul mercato Allenate Faccio un appello? Campisi e Jacopino Vuoi fare un appello? Telecamera Luisito Campisi Facciamo un appello Poi dobbiamo parlare di Milano Io sono un milanista Dalla Lasch Berlusconi ci sta guardando Ah proprio Puoi partire Ma io devo partire dall'alto Per arrivare poi Cioè vuoi giocare con Cacà? Io faccio un appello A Silvio Berlusconi Visto che adesso Sta anche mettendo Un po' da parte Una carriera politica Guarderà un po' più il Milano Speriamo Vengo gratis Qualsiasi ruolo Io al Milanello Mi presento anche domani mattina Presidente Non hai capito Se mi sta guardando Capisco Capisco Lasciamo un numero Poi in domani Non hai capito Per andare a giocare nel Milano Devi pagare No Sandro Garantisco che i piedi di Campisi Sono migliori sicuramente Di quelli di tanti centrocampisti Che ha il Milan Quelli di Matri sicuramente Va bene Ci siamo fatti dare una mano Da Luisito Campisi Che è comunque un intenditore di calcio Per comporre L'attacco del Milan Perché Allegri È vero che è in emergenza difensiva Contro il Torino Sabato sera Ma ha una grande abbondanza davanti E Luisito Proprio oggi L'abbiamo contattato Per disegnare Il reparto offensivo Del Milan Lui ci ha dato due opzioni Cioè il Milan In casa può giocare Con un certo atteggiamento Addirittura con Un trequartista Più tre attaccanti Lo vedete Nella parte sinistra Quindi Cacca trequartista Robigno Balotelli Sciarauda Non ti è mai sembra Adesso ho capito Perché non gli fa fare Stefano Io pago il biglietto Per lo spettacolo A Torino In trasferta Per certe partite Un trequartista Cacca di E trova Lo Che guarda a casa E guarda a casa E guarda che io farei Campisi Adesso ci spiega tutto Perché qua ci sono state Un po' delle esatte Soprattutto per Quelle tre punte Dai Luisito Allora in casa Non è l'aspetto scherzoso Ma è l'aspetto Di una squadra Che secondo me Si può proporre Un po' su tutti Su tutti i fronti Come una squadra dominante Lo vedo un po' Barcellona A questo modello Che sarebbe A Berlusconi Piacerebbe tantissimo A Berlusconi Sicuramente No La verità è che Con l'arrivo di Matri Penso che la scelta Sia scontata Matri e Cacca Devono imporre A Lega Questo modulo Cacca Alle spalle di Balotelli E Matri O Pazzini Quando sarà pronto Il pazzo Un giocatore importante Che comunque Diciamo una fotocopia Di Matri Quindi o uno o l'altro Scanziani Credo che nessun allenatore In Italia Giocherebbe E con il modulo Proposto da Luisito Con tre punte Più un trequartista Beh niente male Allora Prima di tutto Bisogna smetterla Con una formazione Di casa Una formazione fuori casa Una squadra No voglio di una squadra Come il Milan Una squadra come il Milan Deve sempre andare A cercare di vincere Per cui Deve sempre giocare Con questo modulo Sicuro Sicuro Allora io direi Che Balotelli Può essere un tornante Di destra Come l'ha fatto più volte Balotelli Tornante di destra Balotelli Punta di destra Esce là Punta di sinistra Matri Alle spalle Caccai Due mediani Per la Balotelli La vede la mia formazione Siamo d'accordo Quattro Dopo magari la rivediamo Quattro Quattro Due Tre De Jong De Jong Io invece Ragazzi Balzani Il cuore del tifoso Rossonero Io schiererei sempre Quella che abbiamo visto Che ha proposto anche Luisito Per la trasferta Cacca trequartista Balotelli Matri Perché Matri L'ha voluto Allegri Sì L'ha voluto Polzani L'ha voluto Io soprattutto Sì è vero Però secondo me È un giocatore Che con Balotelli Si integra bene Perché cerca la profondità Balotelli Svaria sul fronte Offensivo Perché non è Giancarlo Qui testimone L'abbiamo sempre detto Una prima punta vera Infatti Infatti il nazionale Fa la prima punta Secondo me La scelta di Cacca E Matri Sul mercato È chiara E il Sharawi Secondo il lega Non ha più spazio Posso dire una cosa Stanno confondendo Balotelli Qui mi stanno confondendo Non è una prima punta Perché il ragazzo Poi anche si presta Perché è un grande giocatore Però insomma Tenerlo un po' sotto vetro Allora il nazionale Gioca prima punta Da solo Per un tempo Come ieri sera Come ieri sera Poi gli affiancano Finalmente Tardivamente O sbaglio Allora Poi Valmilan Si è calato Nella parte Nel ruolo Di prima punta Adesso arriva Matri E deve adeguarsi A giocare Di nuovo Alle spalle di Matri O da seconda punta Non confondetemi Balotelli Perché fra un po' Andrà in crisi Di identità Hai capito Stefano Cosa ho detto Quindi la farei giocare Come avete detto Mi l'ha suggerito L'altra volta Il mio mister Di fari giocare così Dico solo Che c'è il rischio Parlo seriamente Che lui faccia la fine Che ha fatto il Sharawi Nei suoi confronti No Magari sai No Ha un peso caratteriale diverso Diverso esatto Quello fa la differenza Nell'Inter Io me la ricordo A 18 anni C'ha 7 Quando lo fece giocare Mancini Giocava largo La Juve per esempio Ha fatto il centroavanti Però giocava Milito Lui faceva l'esterno E' quello che sostengo io Anche Ibrahimovic Quattro uomini offensivi Ma lo faceva giocare Non mai di prima punta Perché poi Aveva Milito Aveva Mi recuperi le dichiarazioni Di Ibrahimovic Di oggi Su Mourinho Andiamo a vedere Le quote better Altrimenti Mi farò dei segni Un po' strani Oggi Da dietro Sì ma giocate Però poi Eccole qua Come sempre Vi metto delle partite impossibili Ma come Mi pagliaro Lo sanno tutti Mi pagliaro 1,70 Poi il pareggio Tra queste due squadre Segnatevi I nomi Dovresti decriptare Si chiamano acronimo Cosa sarebbe l'acronimo JJK JJK contro Vips Sì sì ma è facile Comunque segnatevi queste partite Poi Lorenz Non è male questa come giocata Poi Lorebro Che batte l'asterisca 1,37 Il pareggio Noto tra Tubizze E Ambersa Con 10 euro Portate a casa 420 euro Cioè di tutte queste squadre Riusciamo a nominare solo l'Ambersa Non ce la facciamo www.better.it Tutte le altre scommette Se chiusi Chiudi Luiz No Stefano Io domandina vado Gioco Poi ci sentiamo il giorno dopo Ok Per dividere la visita La comando gioca su better.it Andiamo in pubblicità Poi mi recuperi Le dichiarazioni di Vraimovic Francesca Tra poco Un uomo entra in un bar Ma è il bar sbagliato Un caffè Grazie Beh, io vado Non hai dimenticato niente? Eh? Nei denti Vuoi tenerli così? Meglio due Ogni volta che mangi o bevi Vivi Denxylit Per denti sani Gira e rigira in Calabria Ci vuole un attimo Per immergersi nei colori E nella cultura del Mediterraneo Questi bronzi di riace Mi fanno proprio girare la testa Gira e rigira C'è sempre un buon motivo Per vivere la Calabria Interrompiamo i programmi Per darvi una buona notizia Alice Scusate Beh, volevamo darvi una buona notizia Ma a quanto pare Più che buona È buonissima Mangioni 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 Provali anche tu Ubanking Ultimate Fantacalcio Scarica subito l'app gratuitamente Su Google Play e Apple Store E gestisci fino a 20 rose Di calciatori della Serie A italiana Componi la rosa Osserva le statistiche dei calciatori Schierali poi nella tua formazione preferita Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe Registrati e gioca con gli amici Come in un vero campionato Con Ubanking Ultimate Fantacalcio Realizzato da Beb Software Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo Per passare dalle coste sabbiose e frastagliate Al suggestivo entroterra Godersi le sue montagne anche in inverno Farsi rapire dai sapori forti Immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria Volevamo darvi una buona notizia ma Più che buona È buonissima Provali anche tu My dog My cat My girl My family My world Mi piace pensare in grande Mi piace My bet Mybet.it Passione italiana Affidabilità tedesca Youbanking Ultimate Fantacalcio Scarica subito l'app gratuitamente su Google Play e Apple Store E gestisci fino a 20 rose di calciatori della Serie A italiana Componi la rosa, osserva le statistiche dei calciatori Schierali poi nella tua formazione preferita Non dimenticare la nuovissima sezione Le mie leghe Registrati e gioca con gli amici Come in un vero campionato Con Youbanking Ultimate Fantacalcio Realizzato da Beb Software Volevamo darvi una buona notizia ma Più che buona È buonissima Anconi! Mamma che buoni! Provali anche tu Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo Per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria Allora abbiamo ancora qualche minuto di campionato dei campioni Francesca andiamo a leggere qualche dichiarazione di Ibrahimovic su Murigno Sì dalla Gazzetta dello Sport Ibra dichiara Murigno mi ha trasformato da gatto in leone Ha tirato fuori da me quello che nessun altro allenatore aveva mai tirato fuori prima Ma questa chiaramente in contrapposizione la leggo a Guardiola Che viceversa l'ha fatto diventare un gattino innocuo Questa è indirettamente una nuova polemica nei confronti del Pep Che lo ha bocciato, che ha fatto fare delle figuracce nel Barcellona Ed è anche una sassata, io vado più in là, alla sua permanenza a Barcellona Alla difficile, praticamente impossibile, convivenza con Messi Quindi credo che più che un complimento a Mu Che peraltro ci sta perché all'interno No, però hai sentito come complimento Sì, però credo anche che ci sia questo retrogusto Tra l'altro lui ha aggiunto anche Lui ha anche aggiunto Io per Murigno avrei ucciso Nel libro l'ho scritto, l'ho dichiarato più volte Sì che è una frase terrificante Infatti se ricordo bene Poi Murigno non si oppose al suo trasferimento al Barcellona Il Barcellona l'ha voluto anche, penso, anche Guardiola L'hanno pagato molto Gli hanno dato la possibilità di guadagnare il doppio Se poi lui a Barcellona fa 25 gol O 30 gol voglio vedere se lo manda via Ibra ha chiesto di andare via Voleva andare via, lui viveva un'esperienza Perché voleva andare via se c'era il suo allenatore preferito E di prendere To E' chiaro che anche Murigno ha detto va bene Attenzione, che Ibra è lo stesso C'è sceso, appena sceso dall'aereo Quando gli ha fatto indossare la maglia del Milan Dopo l'esperienza all'Inter Baciando quasi la terra Come facevano i crociati I crociati quando tornavano Ha baciato la terra Non è l'unico Si è battuto il centro Non sia l'unico Il Milan della mia casa Sbaglia tutto Questo sarà uno dei temi di cui parleremo domani sera Con Caterina Colovati A partire dalle 22.30 Tra l'altro Francesca ci ha già recuperato Calcissimo.com Ci sono state inserite da Carlo Tagliagambe Gabriele Cantella Le prime dichiarazioni di Luciano Moggi Qui in esclusiva a Odion Giancarlo in chiusura Un commento velocissimo Perché ieri il presidente Armstrong Ha detto che inviterà il ministro Chiege Al Brianteo Per un evento Mi dici un commento Bene La battaglia contro il razzismo A mister Armstrong L'ha presa veramente sul serio Il Monza gioca con questa maglia Con scritto appunto Con una scritta anti-razzismo Insomma Sta facendo quest'uomo Di tutto Per imporsi non solo sul piano Sul piano calcistico Sul piano sportivo Questa è una bella iniziativa Il personaggio c'è Buca il video È capace di imporsi Insomma Sta facendo una bella politica E soprattutto Sta facendo sognare Il tifoso del Monza Va bene Allora Noi ci rivediamo domani sera A partire dalle 22.30 Ringrazio Nicola Balsani Ciao Stefano Buonanotte Ministro Alessandro Scanziani Buonanotte a tutti Luizito Campisi Che tornerà a trovarci Spero Giancarlo Bisana Che spero che non tornino Torna domenica Complimenti a Luizito Al debutto Io domani sera non ci sono La nostra bellissima Francesca Puriani Grazie per averci seguito Buonanotte Che ci ritornerà mercoledì prossimo Noi ci vediamo domani 22.30 Buonanotte 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 Grazie a tutti.